domanda in accordo all'articolo dimmi se è corretto un'azione semplice diciamo educare il pubblico perché semplicemente facciano bene l'uno agli altri invece che farsi del male questo ha più forze e più luce che la filosofia più elevata della connessione di cui parliamo fra di noi Rav dice certamente certamente se la gente realmente danno l'uno all'altro anche in cose semplici e questa cosa li connette l'intensità del loro lavoro l'essenza di questo lavoro spirituale più grande la saggezza della cabalà non richiede intelligenza per niente solo la tendenza nel lavoro per gli altri però è qualcosa di graduale non possiamo apprezzarlo se sentirlo e farlo ma è così come funziona quanto più il cuore sta in questa inclinazione semplice e diretta di lavorare per l'altro questo è il lavoro più grande grazie grazie grazie